E' una figata pazzesca! Come è stata questa esperienza, raccontami! E' una figata pazzesca! E' come trovare una libertà, come anche sapere l'acqua, una sensazione di no gravità che è una cosa pazzesca. L'acqua non posso per la contentezza perché è veramente un'emozione, un'emozione da ritrovare più e più volte. E poi tra l'altro so che te fai anche un altro sport molto bello! Sì, tiro con l'arco, infatti faccio volare frecce, volo io e io ho sempre stata a questi sport super pazzi, da piccola guidavo la minimoto, quindi ho fatto tutto. Che bello! Sei super grintosa, sei veramente una ragazza straordinaria, quindi alla grande speriamo che tornerai presto a volare qui con noi. Assolutamente, perché siete fantastici, tutti possono fare! E tu sei la testimonianza, fantastica! Grazie! Grazie!